Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Montecchio Maggiore fugge al posto di controllo 26enne senza patente, assicurazione e revisione e maxi multa di 6.500 euro. Gli agenti della Polizia Locale dei Castelli, dopo un breve inseguimento ad alta velocità, hanno bloccato l'Audi condotta da un cittadino nigeriano. Oltre ad un corposo verbale per le varie infrazioni commesse, è stato sequestrato il mezzo. Dueville esce di strada, in pieno centro, auto distrutta, danni all'arredo urbano, salvo il conducente. Percorrendo Via Rossi, un trentenne alla guida della sua Fiat Punto per cause in corso d'accertamento ha sbandato, colpendo le colonnine che delimitano la carreggiata del percorso pedonale. Il conducente miracolosamente non è rimasto ferito. Schio, denunciato 21enne dopo la perquisizione in casa, trovati 49 grammi di marijuana. Gli agenti hanno rinvenuto 49 grammi di marijuana, un bilancino di precisione. La sostanza trovata era occultata in bagno e nella camera da letto. L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Sostanze stupefacenti. Vicenza, doppio tamponamento tra tir in 10 chilometri sulla A4. Traffico in tilt per metà mattinata. Disagi del traffico lungo importante arteria, con disagi prolungati per camion e auto per tutta la prima parte della giornata di giovedì. Le fasi clou di imbottigliamento, prima che le segnalazioni dei due incidenti fossero recepite dagli utenti in transito, si sarebbero raggiunti gli 8-10 chilometri di coda. Arzignano, la calda estate della Guardia di Finanza Vicentino, 800 interventi in tutta la provincia. Un rafforzamento di controlli e pattugli in strada a Mirato, disposto nelle località a vocazione turistica, Vicenza, Bassano, Marostica e Schio Tiene, nelle aree montane, ha portato risultati importanti a tutela di imprese, commercianti, artigiani e operatori economici rispettosi delle regole. Le sanzioni superano il valore di 400 mila euro. Tiene riprende il servizio mens per 800 bambini delle primarie con modalità pre-Covid. Il servizio erogato dalla Cheer Food di Reggio Emilia serve a un vaccino che nell'anno scolastico passato è stato di 800 studenti, tra chi frequenta il tempo pieno e chi usufruisce della mensa nei rientri settimanali e per il dopo scuola. Conclusa l'emergenza Covid, il servizio di ristorazione scolastica torna quasi del tutto alle modalità passate. Pagina dell'eco nazionale, Eurostat in Italia è una persona su quattro e a rischio povertà nell'Unione Europea, sono ben 95 milioni e mezzo, uno su quattro in Italia è a rischio, lo stima l'Eurostat con riferimento all'anno 2021. Ucraina è incidente d'auto per Zelensky, il presidente non avrebbe subito gravi conseguenze, il presidente ucraino ha avuto un incidente stradale che non ha riportato conseguenze, tanto che l'ufficio del presidente ha diffuso il video del discorso serale che il leader pronuncia ogni giorno. Sport Champions, Tris per Milan-Napoli, la Juve crolla col Benfica, dopo il successo dell'Inter due vittorie e una sconfitta per gli altri e tre italiani impegnate nella fase a gironi di Champions League. Tris per Milan e Napoli, i rossoneri battono 3-1 San Siro, la Dinamo, Zagabria, i partenopei passano per 3-0 a Glasgow in casa dei Rangers. Fondi russi ai partiti, anche l'Italia coinvolta, Letta ha subito la verità, anche in Italia sarebbe coinvolta nel caso dei fondi russi ai partiti, ma se da una parte si dà per certa la presenza della nostra nazione all'interno del dossier diffuso dal Washington Post, dall'altra arrivano le smentite. È tutto, grazie dell'attenzione e risentirci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.